Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi facciamo un tag che in inglese è chiamato Booktube Real Talk Tag ovvero parliamo seriamente di Booktube, poi dopo elaboreremo un titolo decente da mettere nella preview comunque oggi si parla di Booktube in tutte le sue forme vi linko giù anche il video di chi l'ha creato ovviamente con le traduzioni delle domande che farò man mano quindi come sempre le mie traduzioni sono abbraccio quindi a cazzo di cane non lo so mi ispirava perché l'ho visto fare da un po' di persone che seguo soprattutto ovviamente Booktube UK e America e quindi ero curiosa di riproporvelo perché secondo me può essere interessante perché si parla della community comunque partiamo con la prima domanda che chiede c'è qualcosa che nessuno ti aveva detto prima di aprire un canale su YouTube e immagino che il senso sia e che avresti dovuto sapere o voluto sapere allora questa è una domanda abbastanza complessa nel senso che le cose sarebbero tante nel senso che anche quando quelli che conoscevo già prima mi avevano dato dei consigli avevo richiesto varie robe purtroppo per quanto possano aver trasportato tutte le loro conoscenze ci sono cose che non ti vengono in mente ce ne sono tante diciamo che probabilmente la mia difficoltà maggiore è stata nell'inserirmi in questo tipo di mondo perché io nella mia vita privata nella mia vita lavorativa anche non sono abituata a fare premesse su premesse sono una persona molto diretta una persona che non si giustifica mai per le opinioni che ha da quando sto su YouTube la mia grandissima paranoia è sempre ripetere centomila volte le stesse cose è la mia opinione cioè per me sono dati di fatto è chiaro che quando uno apre un video di un booktuber quella è la sua opinione non è la verità universale e tutte le opinioni che vengono date non sono mai messe lì per screditare qualcun altro però evidentemente se non lo ripeti almeno 150 volte in un video non stanno capiti ma anche quando lo ripeti non stanno capiti e quindi evidentemente questa è una cosa che forse magari avevo preso sotto gamba magari non avevo molto non so non essendo qualcosa che fa parte di me faccio molta fatica ci vorrei essere molto più diretta vorrei essere molto più cattiva perché lo sono a certe volte nella vita reale ma su YouTube l'ironia non viene capita cioè proprio siamo messi male 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 la domanda numero due ci chiede invece qual è la tua opinione sui tipici video di YouTube i wrap up, le TBR e gli e-hole allora io i wrap up li faccio spesso nel senso almeno una volta al mese perché primo servono a me per fare un punto su quello che ho letto sono anche i miei contenuti più visti e questo mi fa un sacco piacere perché vuol dire che ogni volta ci sono una serie di discussioni e di proposte che possono incuriosire o interessare a tutte le persone che sono iscritte al mio canale non lo so e poi mi piace fare il wrap up parlare di tutti i titoli che ho letto e di cosa ho pensato a volte visto che a me non piace fare le recensioni singole di tutti i libri che leggo primo perché comunque non tutti sono interessanti non tutti mi sono piaciuti molto non tutti hanno degli argomenti di discussione effettivamente molto validi e quindi il wrap up è una buona modalità sulla TBR io ho sempre un'opinione un po' caustica ovvero che la TBR porta sfiga cioè è innegabile che tutti i libri che io infilo in una TBR l'ho fatta una volta e non ne ho letto nessuno no l'ho fatta due volte e non le ho letti nessuna delle due volte in generale secondo me quando uno poi ci pensa e ragiona troppo meno per come sono fatta io poi è chiaro che ognuno ha uno schema mentale diverso c'è chi si fa una TBR e poi la segue pedissequamente io l'idea anche solo di costringermi a una TBR perché in quel momento penso che mi potrebbe interessare questo o quello mi fa sentire costretta e quindi no non mi piace sugli haul io l'ho sempre detto che secondo me sono dei video un po' così nel senso ci sta però a me non interessano io da utente di booktube non li guardo perché non me ne frega niente di una serie di libri che arrivano e dei quali non so nulla dei quali non viene data o restituita un'opinione perché non sono stati letti abbiamo questo abbiamo questo abbiamo questo abbiamo questo ancora fai una TBR infinita anche lì fai un ma poi non so nulla di quei libri è per questo che a me non piacciono perché non ci trovo nulla poi non so sarà anche che io non sono una persona che ama assolutamente il consumismo dal punto di vista del fare vedere fare vedere fare vedere ma preferisco magari invogliare alla lettura quando ho effettivamente letto un libro però nulla di male su chi fa questi tipi di video anzi ognuno ripeto ragione in maniera diversa il mio sentore è che se da utente non li guardo perché dovrei farli la terza domanda chiede quali erano le cose che pensavi o le chiamo assumption quindi le cose che credevi fossero vere riguardo a youtube prima di farne parte e si sono rivelate corrette o si sono invece rivelate finte false allora questo è un discorso complesso e so che sarà interpretato male quindi non interpretatelo male ve lo permetto subito però secondo me il motivo per cui io sono finita su booktube fondamentalmente era che per me c'era un vuoto sentivo una grossa mancanza di persone che parlassero in maniera critica di un genere che a me piace molto non che chi non lo fa sbaglia assolutamente no però per me per il tipo di utente che ero da fuori questa era una necessità non lo so c'era troppe poche persone che lo facevano o addirittura rarissimi casi e non c'era un approccio critico anche a un genere che secondo me ha necessità di un apparato critico in primis e che nessuno sta facendo e dall'altro lato ha necessità proprio di una visione un po' più cioè un po' più strong perché bisogna rivalutarlo e quindi diciamo che la mia esigenza ai tempi era dire manca questo io probabilmente io mi ci sono buttata perché secondo me non so perché fondamentalmente era a me come utente che mancavano quel tipo di video evidentemente non lo so se è per quello o se è per una serie di altri motivi perché sono simpaticissima non è vero però probabilmente è il motivo anche per cui dopo un anno siamo diventati così tanti perché evidentemente anche per qualcun altro era un'esigenza almeno io penso che sia così poi magari non lo è nel senso che ogni canale io penso che abbia le proprie peculiarità ogni canale ha dei punti forti e dei punti deboli c'è chi io guardo un sacco di video magari per intrattenimento senza che stia lì proprio a ragionare su quello che ho letto vedo altri video perché magari voglio proprio capire il ragionamento che c'è dietro a qualcosa mi piacciono ad esempio molto le recensioni di alcune non riesco a guardare quelle di altri perché magari qualcuno ha ragione in maniera più simile a me altri invece non ci siamo per come io vedo le recensioni però magari vedo di queste persone ben altri video insomma ognuno secondo me ha le sue peculiarità a me personalmente mancava un qualcosa di critico un approccio più critico e penso che questo si sia rivelato abbastanza corretto ma era una mia una mia esigenza quattro qualcosa che hai fatto per far crescere la tua audience il tuo pubblico e penso nulla penso assolutamente nulla perché se c'è una certezza che parlare a una nicchia di una nicchia di prodotti di nicchia in maniera molto di nicchia sia il suicidio per lo stare su booktube nel senso che qua non troverete entusiasmo non lo troverete mai a meno che non siano titoli che io reputo molto validi però fondamentalmente io faccio quello che viene fatto su tanti altri canali di narrativa generale applicata a un genere un po' di nicchia non 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 credo di aver fatto nulla per far crescere i miei followers no cioè nel senso non volontariamente diciamo che magari alcune cose devo dire il grosso il grosso botto per me è stato quando ho pubblicato i video di shadow hunters che mi hanno portato anche un sacco di palate di schifo perché mi sono arrivati dei messaggi al limite dell'allucinante ma effettivamente un sacco di persone soprattutto i fan ed è quello che mi ha fatto più piacere si sono approcciati al mio canale e hanno cominciato a diviguare la mia serie preferita però effettivamente non posso darti torto per alcuni aspetti oppure mi è interessato comunque ascoltare il modo in cui tu hai visto certe cose magari per le prossime letture io potrei approcciarmi in questo modo cioè questo per me è stato molto figo e il momento shadow hunters che io avevo una paura folle quando ho pubblicato quel video perché mi aspettavo solo la parte palate di letame in realtà mi ha portato più bene che male però non è che l'ho fatto per i followers non so come dire anche perché parli di shadow hunters non ti arrivano dei followers se ne parli male cioè ti massacrano eh cinque qual è l'errore comune che vedi fare ad alcuni nuovi booktuber e che forse hai fatto anche tu allora probabilmente ripeto inizialmente una cosa che a me capitava spesso era che ero molto frenata nelle mie opinioni cercavo sempre di essere comunque un po' contenuta perché non sapevo un po' avevo molta paura dell'approccio che si ha quando viene esposto una propria convinzione personale ovviamente e cosa della quale mi sono liberata anche in fretta per fortuna però devo dire che alcune volte io ero un po' mi sentivo in questa che è la mia nicchia quindi il fantasy e il fantasy per ragazzi soprattutto un po' come se fossi un'aliena no? e quindi dovevo riuscire a trovare dei contatti con cose che già piacevano già facevano altri per per i prodotti e invece quando ho iniziato a fare le cose che piacevano a me e a esprimermi esattamente come sono io e come vedete tutti in tutti i video non dico che prima non lo facessi però prima volta magari mi frenavo anche se io sono una persona molto sboccata ad esempio e proprio quando rivedi video e io so che gli avrei detto magari una castroneria da scaricatore di porto e non lo facevo e so che a molti non piace questo aspetto però è qualcosa che fa parte di me e mi sentivo frenata quindi la cosa che vedo spesso fare i nuovi booktuber è che si sentono molto impostati nel dover fare certe cose no? o a riprodurre meccanismi già di altri perché ci sono finita di mezzo anch'io mi sentivo proprio come se dovessi fare quello per non so arrivare al pubblico e in realtà secondo me la cosa che il pubblico apprezza di più è quando c'è l'assoluta autenticità cioè quando ciò che viene proposto è molto personale è molto nostro o almeno forse è quello che cerco io quando cerco nuovi canali nuovi creatori che si occupano di queste cose quando vedo della personalità quando vedo qualcosa di molto fuori dagli schemi mi interessa lo seguo lo trovo interessante lo vedo vedere sempre magari book haul wrap up e tbr ripeto anche io faccio i wrap up ok però non mi interessa 6 qual è la tua opinione riguardo alla collaborazione con degli editori oppure le sponsorizzazioni allora io qua ho un sacco di cose da dire alcune le ho già dette anche nel mio video sulle collaborazioni con le case editrici io non ci vedo assolutamente nulla di male nel collaborare con una case editrice quando la collaborazione si basa su una del senso cioè deve essere una collaborazione che ha una qualche prospettiva un qualche senso perché se io parlo di fantasy arriva la case editrice X a propormi dei gialli la case editrice X non ha capito nulla però ci sono tantissime ad esempio canali tantissimi Instagram blogger eccetera che invece leggono tutto e quindi accettano tutto ed è giusto perché in fondo i loro gusti letterari sono molto variegati i miei sono molto più ristretti quindi ha anche senso impostare delle collaborazioni con case editrici che rispecchiano i tuoi gusti e poi sinceramente che capiscano il tuo modo di ragionare perché spesso in Italia non lo fanno tutte anzi io collaboro con diverse case editrici con Mondadori con Bao con Fazzi a volte mi capita anche di avere delle collaborazioni spot con altre e delle case editrici con cui collaboro io la cosa che mi piace fare e anche poi proporvi quello che loro mi danno da leggere a volte è perché so che c'è assoluto rispetto sia per me e per il mio modo di fare e per le mie opinioni che anche per il modo in cui io poi lo riproporrò a voi e quindi non c'è mai un problema nel senso che nessuno mi ha mai detto tu devi fare questo tu devi spostare questo tu devi chiedere questo anche perché nel momento in cui io vengo obbligata a fare qualcosa automaticamente se non c'è un pagamento di mezzo la collaborazione si annulla non tutti però ragionano in questo modo c'è chi pur di avere un libro gratis dalla casa editrice farebbe tutto e questo secondo me è negativo per tutta la community di Booktube perché lavorare gratis per qualcuno vuol dire fare il lavoro per loro gratis fargli pubblicità gratis e non far mai riconoscere a tutta la comunità di Booktube il valore del lavoro che ci sta dietro e infatti uno dei problemi più grossi di questo tipo di questioni è che parte del danno lo fanno gli stessi Booktuber lo fanno gli stessi blogger perché il lavoro che c'è dietro qualsiasi canale qualsiasi foto qualsiasi account qualsiasi blog va pagato punto poi può essere una scelta personale magari dire leggo un titolo ne parlo mi interessa perché magari è un titolo che a noi ci prende ma ripostare continuamente le stories delle case editrici fare dei favori fare dei video degli haul fare degli unboxing fare queste cose è negativo punto non ci voglio più tornare spero che sia chiaro perché io lavoro in pubblicità e io vi posso dire che questo è tutto lavoro gratuito che si sta facendo per loro e pensate che poi le case editrici da quelli che chiedono un pagamento ci vadano no pensate che vi pagheranno mai no pensate che vi offriranno mai un lavoro no punto invece altra cosa è per le sponsorizzazioni le sponsorizzazioni secondo me dipende da che cosa si cerca di sponsorizzare personalmente sponsorizzare dei libri e le recensioni di libri non la trovo una cosa sensata perché non c'è un filtro purtroppo sei tu l'autore o tu la casa editrice poi magari lo si fa comunque un conto poi magari è presentare un certo libro presentare un volume dire è uscito questo e scheda dell'ufficio stampa cioè ci sta non lo farei io personalmente io ad esempio non sono assolutamente interessata a ricevere sponsorizzazioni legate all'autore o alla casa editrice ma cosa può fare il booktuber sponsorizzato può fare un sacco di altre cose gli eventi intanto gli eventi vanno pagati non c'è proprio pezza che tenga però ci sono tante altre attività che magari sono direttamente legate alla lettura perché spesso ci sono questo tipo di attività che non portano nulla di negativo cioè so che la sponsorizzazione digital viene sempre vista come qualcosa di negativo ma io lavoro costantemente nel mio lavoro fuori da booktube con il mondo online e non c'è nulla di male c'è semplicemente un'altra piattaforma è come se tutti noi fossimo delle fondamentalmente delle vetrine dove spore qualcosa e poi magari farlo in maniera più accattivante possibile perché dipende dal tipo di sponsorizzazione secondo me sia con i libri si possono fare tante attività sponsorizzate dall'altro lato però questa sta diventando una lezione di marketing per le case editrici e non solo e dall'altro lato si possono fare anche un sacco di attività extra perché tutti noi booktuber abbiamo delle passioni che esulano dei libri quindi non so io ad esempio parlo sempre di musica parlo sempre del mio lavoro perché mi piace io mi occupo di fotografia mi occupo di grafica mi occupo di direzione artistica parlo sempre spesso dei viaggi perché mi piace andare in giro scovare le cose insomma ci sono tanti interessi che chiaramente il nostro pubblico conosce perché io parlo di queste cose sono le cose che amo quindi possono diventare uno strumento per veicolare alcuni tipi di informazioni in maniera più strutturata da parte delle aziende quindi assolutamente io sono favorevole alle sponsorizzazioni però le sponsorizzazioni non devono essere una cosa immonda cioè non devono essere prodotto prendilo pagalo col codice bla bla te dimagranci quello non serve a niente mio padre sarà orgogliosissimo che ho usato la sua frutta secca per fare questa promo e perché ha preso l'essiccatore vabbè ma non è questo il punto e cioè questo è pubblicità brutta è fatta male ma ci sono tante cose interessanti sponsorizzate attività che si possono fare con i brand che se le facessero metà delle aziende italiane sapete quanto saremmo tutti più tranquilli nel vedere la sponsorizzazione e quanto sarebbe anche interessante fare questo tipo di dinamiche sul nostro lavoro 7 pensi che i booktube stia morendo? no secondo me assolutamente non sta morendo semmai sta crescendo penso però che invece ci sia un po' una rigenerazione di booktube che stiano cambiando tante cose primo perché stanno entrando tanti creators nuovi che si sentono magari più motivati rispetto a prima per una serie infinita di motivi dall'altro lato secondo me si vedono sempre di più i limiti di un certo tipo di approccio a booktube che è magari molto vecchio molto vecchio nel senso che ha un tipo di impostazione che ora va un po' rivista però secondo me assolutamente no non sta morendo anzi è sempre più vivo ci sono sempre più persone che ci si approcciano che seguono canali che mano mano iniziano a seguire altre persone questo secondo me è molto positivo niente bene ora devo taggare delle persone quindi innanzitutto sentitevi tutti taggati in questo tag così potete sicuramente riproporlo sui vostri canali io ovviamente non posso che citare la Elena di Miss Nerily figurati poi Francesca di Quiet Blizzard e Georgia di Passione Retorica e poi però ripeto chiunque si può sentire tranquillamente taggato e riproporlo sul proprio canale io come sempre spero che questo video sia risultato interessante una chiacchierata attorno al mondo di booktube e niente come sempre spero di avervi tenuto compagnia e per il resto ci vediamo al prossimo video ciao ciao